A tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, il grande picchio Giancarlo De Sissi per tutti i fans. Ciao ragazzi, tanti auguri di Buon Natale, arrivederci. Io ti ringrazio Giancarlo, tu sei un mito, hai dato tantissimo al calcio, un saluto particolare? Ti voglio bene, auguri, vedi tu. Grazie. Baci. Grazie, ciao Giancarlo, grazie.